La Brandani Gift è un'azienda che è nata 35 anni fa, è un'azienda toscana nella provincia di Pistoia, punta su un team di ragazzi e ragazzi molto giovani e si propone per questo anno sia per la tavola, sia per la cuscina, per il compredimento d'arredo qualcosa di molto sfizioso, di semplice, di genuino e di coloratissimo per rendere tutto una sorta di articoli particolari che cantano come i dosi gelato, che suonano come le pause musicali, coltelli colorati che danno allegria a tutta la tavola. Consigliamo a tutti le nostre nuove proposte che potete trovare nei migliori negozi in Italia.